Un taranto cinico riesce a battere il campo basso in trasferta per 1 a 0. Decide un gol di Peppe Giovinco, la novità di Giuseppe La Terza nel 4-3-3 iniziale. Stesso modulo di gioco per Cudini del campo basso con l'ex Emmausso in campo. Parte decisamente meglio la formazione molisana che al decimo minuto riesce ad arrivare vicino all'aria di rigore con una fiondata di bontà dal limite. Chiorra si distende e mette in calcio d'angolo. È migliore l'approccio dei rosso-blu di casa. Taranto in maglia bianca per l'occasione e al diciannovesimo ancora un taranto che soffre il pallone di Liguori in aria servito al volo. Chiorra però dice di no. Il campo basso si fa vedere anche al minuto 43 con Liguori che vede in aria Parigi. Anticipa ben assai senza centrare il bersaglio. Palla sopra la traversa e si chiude così il primo tempo. Nella ripresa l'episodio che cambia la partita. Siamo al 51esimo e c'è un'avanzata da parte di Saraniti. Si strattonano con Fabriani. Poi è Fabriani a commettere fallo. L'arbitro vede tutto. Si avvicina poi al giocatore del campo basso e per lo schiaffo che ha ricevuto il numero 9 del taranto da parte del 23. Estrae il cartellino rosso. Il campo basso è in 10 e va in difficoltà. Il taranto ne approfitta in maniera come detta cinica e puntuale. Nonostante la mentire del giocatore del campo basso la decisione è definitiva. Nessuna munizione per il giocatore del taranto. L'attaccante degli ionici che anzi fa densità al minuto 57. Quanto Franco Belloc se ne va sulla destra il cross. Peppe Giovinco arriva di testa 1-0. Il gol partita il taranto così conquisterà tre punti. Ma da quel momento in avanti gli ionici proveranno addirittura a chiuderla. Doppia mandata la partita. L'esultanza della panchina del taranto. Il colpo di testa da parte dell'attaccante ex Pisa. Il bersaglio centrato. L'esultanza di Saraniti. Il taranto come detto la prova a chiudere la partita al minuto 70 con un tentativo da parte dell'ultimo arrivato dal mercato sia Riccardi dal limite ma il suo sinistro viene neutralizzato dal portiere di casa. E allora prova a farsi vedere in avanti la formazione del campo basso. Siamo al 72esimo con circa un quarto d'ora. Poi saranno sei minuti di recupero. Il campo basso tenta di stringere i tempi. Innanzitutto con una conclusione dal limite di Rossetti che non trova lo specchio della porta. Cresce la formazione di casa con il tentativo al minuto 76 da parte di Parigi. È bravo Zullo a sporcare il pallone e mettere in calcio d'angolo. Allora il taranto prova ad allentare la pressione da parte degli attaccanti del campo basso con un'azione di alleggerimento. E' il minuto 78 e ci prova l'autore del assist vincente Franco Belloc la parata del portiere del campo basso. Il finale è tutto in chiave campo basso che si lamenta al minuto 89 per un tiro respinto con un braccio secondo i molisani da parte di Ferrara. Le immagini dimostrano che le braccia sono attaccate al corpo e per il nuovo regolamento non è fallo di mano. Al 93esimo ancora in avanti il campo basso ma fa buona guardia a Chiorra che però deve vedere e sospirare quando al minuto 96 proprio negli istanti finali c'è l'occasionissima per il pareggio con Tenko Rang che arriva a sfiorare il palo con il suo destro. Ma il taranto conquista tre punti pesantissimi per la classifica. Quattro punti in due giornate soprattutto il gol di Peppe Giovinco al minuto 57 che sblocca l'attaccante degli Ionici. Il taranto può festeggiare. Sono quattro punti in due partite i rosso-blu. Adesso si concentreranno sulla gara contro il Palermo sabato alle 17.30 allo stadio Erasmo Iacovone.